RICORDO ANCORA IL GIONO IN QUI BEN E' TORNATO IN ITALIA E BIAMO REGISTRATO LA NOSSA PRIMA CANZONE AVEVAMO L'ENTUSIASMO DALLA NOSTRA ERAVAMO QUEI RAGAZZINI CHE, NONOSTANTE TUTTO, CI HONO SEMPRE CREDUTO RICORDO LE PORTE IN FACCIA, UNA AD UNA RICORDO IL NOSTRO VECCHIO PRODUTTORE CHE CI DISSE SE VE NE ANDATE VIA DI QUI, NON COMBINERETE MAI NULLA NELLA VITA La vita è fatta di scelte, puoi buttarti e metterti in gioco oppure decidere di lasciare tutto Beh, questa, per noi, non è mai stata la soluzione migliore alle delusioni Sabato 4 marzo 2017, mediolamo un forum Milano Faremo un concerto nel posto in cui hanno suonato i più grandi E potete stare certi che lavoreremo tanto per regalarvi il nostro show migliore di sempre Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti